Ciao ragazzi, siamo in compagnia qui di Terratech con il concept BT Mobile Boost è praticamente una cassa, uno speaker bluetooth che abbiamo già visto ieri con altre aziende questa ci permette di collegare in bluetooth il nostro smartphone e di sentire quindi la musica più ad alto volume nella parte posteriore possiamo vedere anche qui le varie colorazioni che ci sono abbiamo quindi la posteriore di collegare con bluetooth tramite USB, tramite Fiat Car, quindi microSD tramite il jack classico e poi il tasto di accensione e di spegnimento qua sopra poi abbiamo i vari comandi quindi cosa dire poi di questo dispositivo? praticamente abbiamo, leggendo le caratteristiche, la possibilità di inserire fino al massimo 16GB di microSD abbiamo già parlato dell'AUX, abbiamo parlato dei controlli touch che ci sono sopra poi abbiamo un microfono integrato per le chiamate, questo non l'avamo proprio disvetto infatti se vedete qui sopra c'è anche il tastino della chiamata e quindi è possibile anche fare le chiamate in questo dispositivo, una cosa davvero interessante poi abbiamo una batteria da mAh che ci permette di ricaricarvi, che ci permette di arrivare fino a 5 ore e abbiamo queste colorazioni più anche la colorazione silver il prezzo è di 69,99€ quindi quello suggerito al pubblico il volume massimo che si può arrivare è questo quindi che è un volume davvero buono e di un certo livello quindi direi allora che dalla Terratec è tutto e ci vediamo alle prossime recensioni, grazie grazie